Oggi facciamo un pollo un pollo che fanno nelle Marche, il pollo in potacchio e lo facciamo la mia versione, la versione sempre di casa Mariola, quindi mi raccomando, non criticate lo faccio così a casa mia adesso, pollo allevato a terra, niente antibiotici non possiamo prendere quella che va a mangiare a mezza strada uno che è allevato a terra, normale poi, rosmarino fresco, suggerito da me, nella sottoscritta aglio, buono pomodoro, datterini pelati poi, olio e un po' di prosecco, va bene? partiamo subito olio franci, toscano l'anteprima 2018 buona, 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 buona vado Mario, ora arriva il pollo adesso qua mi serve uno strumento una padella un qualcosa di veramente forte padella in ghisa pentola in ghisa bella, bella forte arrabbiata caldissimo sentite il rumore che deve fare? deve schizzare tutto deve sporcare qualunque cosa vai, qua così tanto che il cucina non pulisce pulisce chi mangia come a casa Mariola vado lo facciamo ben rosolare però, avete visto, non metto niente solo olio non metto l'aroma perché se no rischiamo di bruciare l'aglio quindi lo metteremo dopo quindi, adesso rosoliamo bene giratelo fatelo ben rosolare uniformemente questa è un'operazione importante una volta rosolato lo levo guardate, sentite che musichetta a casa Mariola oltre a mangiare bene si sente anche buona musica adesso facciamo così raccolgo tutto vedete, così deglasso il fondo raccogliamo tutto quanto sta bontà questo gusto questo saporino così allora così puliamo bene il fondo anche appena evapora l'alcol che non vi pizzica più il naso e non vi si affannano più gli occhiali mi raccomando o legno se state a casa o silicone se state in un ristorante così girate così non riprendete nessuna nessun tegame che queste costano ci vuole tornare la vita vai ci siamo recupero il tutto il tutto recuperiamo vai, così abbiamo pulito metto qua dentro che poi ci servirà buono questa è una bontà poi carta pulisco metto olio vai vai poi aglio bello abbondante che poi toglieremo rosmarino così abbondante ecco mariu vai così facciamo un bel rosolare adesso l'aglio così non rischiamo di bruciarlo avete capito? poi pomodoro prepariamo io lo sapete sono affezionato a petti quindi datterini pelati mamma mia che bontà ragazzi qua ci vuole il pane buono perché qua primo e secondo pagnotta e pollo e proteine capito? carboidrato e proteine metto i datterini e adesso a questo punto metto pollo pollo a pezzi comprate il pollo intero e ve lo fate fare a pezzi basta con o i petti o le cosci pollo intero rimetto il zucchetto tiè guarda qua che bontà sale fino giriamo mescoliamo che bontà una bella macinata di pepe fresco adesso a questo punto lo facciamo cuocere usiamo questa pentola per tenerlo qui dentro per 10 minuti così e dopo 10 minuti ci vediamo sono passati 10 minuti adesso acqua dentro al barattolo vedete un po' del pomodoro ancora c'è rimasto scarpettone aggiriamo e lo lasciamo qua dentro adesso ci sono due metodi uno di finirlo direttamente dentro la pentola il secondo che io preferisco è questo qua metto il pollo dentro la pirofila mescolo bene qua mamma che bontà ragazzi do una sciacquata sia al barattolo che al tegame così diamo anche un po' più di liquido e adesso al forno 25 minuti 180 gradi così diventa bello durato succulento buono gustoso ci mangiamo tutto vai a metà cottura vedete che faccio lo giro così bello cambio posizione tu vai giù io vado su eccomi qua un pezzo va giù un pezzo va su lo bagno guardate che salzetta mamma mia andiamo vado di nuovo in forno guardate qua che meraviglia che spettacolo ahhh mamma mia allora questo è il mio pezzo preferito l'ala mamma mia aspettate scusate oh mi è cascato mi è cascato un pezzo di pane sentite musica ecco qua scotta? nooo brucia ci voglio i pompieri qua guardate qua la cottura bella morbida wow a me mi piace pure la pelle pane bello intinto mamma mia è dolce mmm mamma mia ragazzi con questa mega scarpetta vi saluto sempre buono economico e anche di stagione un abbraccio a tutti quanti che bontà mamma mia ciao 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 ciao